Il più grande inganno del diavolo non è farci credere che non esista, è lusingarci per non farci vedere che il diavolo siamo noi. Io ora sono molto dispiaciuta perché erano degli animali indifesi, quanto persone che avevano armi, i figli potevano ucciderli, ma non c'era motivo di ucciderli. Grazie a tutti. Noi saremo presenti in questa lotta qualsiasi cosa dobbiamo fare, ci sarò io, ci saranno i miei bambini, perché dobbiamo insegnarglielo ai bambini, perché se non puntiamo su di loro, quello che noi abbiamo provato a fare fino adesso non sarà servito a niente e io so che i miei figli ci saranno sempre. Grazie a tutti. 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 Vergogna, vergogna, stanno ammazzando degli innocenti, vergogna. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ma come si fa? Ma Burrini! Mascalzoni! 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 E' uno morto? Eccolo qua! Eccolo qua! Eccolo qua! Eccolo qua! E' morto. E' morto Jimmy! Guarda! 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 Assasini! Buon appetito! Siamo tutti gente pervene, siamo venuti a difendere gli ultimi tra gli ultimi, ecco come siamo stati accorti. Siamo tutti gente pervene, siamo venuti a difendere gli ultimi tra gli ultimi tra gli ultimi tra gli ultimi. Guarda, li portano via col camion dell'ama! 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 Guarda, li portano via col camion dell'ama!